Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come stiamo preparando la serra. Abbiamo montato questi tavolini comodissimi, in base al semenzaio si allarga e si stringe, e sono a sbalzo nella parte sottostante. Qua sotto abbiamo sfruttato il terreno tentando l'insalata. Tre tipi di insalata. Qua abbiamo delle vecchie cipolle, erba cipollina, erba aglina. Li abbiamo messo a germinare della salvia, vediamo se attacca. Qua abbiamo ancora da ripulire un po' le aromatiche, origano timo, finocchio selvatico, c'è finocchio marino, rosmarino. Guardate che bella l'insalata che sta crescendo. Di qua un po' meno bella però. Di lì abbiamo ancora verze del radicchio rosa, perciofi rimasti, fragole. Che bello. Questa qua dovrebbe essere varietà mortadella. Questo qua invece è rosa. Adesso abbiamo impattito un po' qualche cipolle di tropea rimasta, prezzemolo, due tagli di fico dell'anno scorso, sedano là in fondo. Andiamo a sistemare diciamo in questo modo poi. Tutti i ripiani, un semenzaio. Come mi sembra? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e vi aspetto al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.